Ben ritrovati in studio, con me c'è sempre Luana Rigolli, la nostra artista fotografa, c'è Andrea Gandini, il nostro scultore urbano e naturalmente Davide Olivero. Davide, adesso è il tuo momento. Tu sei un ex archeologo, un critico di teatro, di lirica, anche di mostre d'arte e un interior designer. Insomma, hai tanti talenti che questa sera scopriremo insieme. Il tuo onore però, sai come cominciamo? Dimmi. Andando a Pestum, perché lì si è svolta un'importante scoperta archeologica che vi raccontiamo così. Guardate. Ai margini occidentali dell'antica città di Poseidonia Pestum, a ridosso della cinta muraria e a poche centinaia di metri dal mare, è in corso una campagna di scavo stratigrafico che ha portato alla luce non uno, bensì due templi greci, di stile dorico. Il primo si data all'inizio del V secolo a.C., di fronte a circa nove metri di distanza è il suo altare. L'edificio rappresenta un unicum nel contesto dell'architettura sacra in Magna Grecia, ma le indagini delle ultime settimane hanno condotto a un'ulteriore straordinaria scoperta, quella di un secondo tempio precedente a quello fino ad ora conosciuto. A rivelarlo sono 14 capitelli frammentari, riutilizzati forse a scopo rituale nelle fondazioni del tempio successivo. Siamo di fronte quindi a due nuovi templi che sono profondamente legati alle origini della città di Poseidonia e che ci aiutano a comprenderne la profonda trasformazione culturale. Le recenti scoperte avvenute a Pestum ci confermano quanto ci sia ancora molto da fare in termini di valorizzazione, di ricerca scientifica e ovviamente di nuovi scavi in questo importante e fondamentale sito. Il Ministero è impegnato in tantissime iniziative, alcune delle quali sono già state realizzate. Ho personalmente partecipato all'inaugurazione del Museo archeologico interno al sito dopo un importante lavoro di riallestimento e di rigenerazione. E mi recaerò a Pestum per sottolineare l'intervento da 20 milioni di euro nell'area dell'ex stabilimento della Cirio. Inoltre a Velia abbiamo inaugurato la mostra Elea e la rinascita ed è stato fatto un primo stanziamento affinché possa anche nascere il Museo di Velia. Davide come nasce la tua passione per l'archeologia? Ma guarda è una cosa innata. Pensa che quando ero bambino mio padre mi acquistava i famosi Lego e i mattoncini e lui era anche lui un ingegnere, Luana, e quindi aveva un'impostazione militare. Aveva anche un'impostazione abbastanza così regimentata per quanto riguarda la costruzione. Si guardano le istruzioni e si fa quello che c'è scritto. Io costruvo piramidi. Una volta ho anche incendiato il bagno di casa mia perché dopo la lettura dell'Iliade, quella per fanciulli, avevo bruciato imitando praticamente l'incendio di Troia. Già allora eri pericoloso? Era già abbastanza pericoloso. Ho anche allagato un bagno perché c'era stato il mio periodo atlantideo. Quindi voglio dire con i puffi questo, questa volta. Quindi diciamo così è qualcosa di innato in me. Ho sempre cercato di comprendere qualcosa di me attraverso la storia. Quindi diciamo che ero sempre centrato su quello che era il mio percorso, legato però a un percorso condiviso storico. Questo mi ha portato ad avere verso l'archeologia, al di là che è una scienza, in realtà anche una sorta di affascinazione. Un professore straordinario Carandini si chiudeva all'interno degli spazi archeologici, chiudeva gli occhi e al di là di quello che scientificamente si poteva ipotizzare, immaginava attraverso i movimenti corpori di capire perché quegli spazi erano condivisi. Cioè la concezione che nell'archeologia si può essere, si può mettere anche immaginazione e creatività. Non è esclusivamente scienza, per quanto lo sia ovviamente. Però tu sei un ex archeologo. Oddio, non lo si è mai. Però perché hai abbandonato la professione? Ho abbandonato la professione perché come tanti probabilmente avevo delle grandissime difficoltà per potermi mantenere. Diciamo che l'archeologia si sviluppa, al di là di quelli che sono dei percorsi statali, attraverso concorsi eccetera, con delle difficoltà. Io avevo un grandissimo desidario di indipendenza e indubbiamente l'indipendenza vuol dire anche economica soprattutto. Non ho abbandonato mai il mio interesse, tant'è che anche poi nei lavori successivi come quello che sto attualmente svolgendo come interior design, l'archeologia ha un senso. Però tu scrivi anche di lirica. Io scrivo anche di lirica perché quando ero bambino i miei genitori, mia madre, ascoltava Maria Callas, un disco su Puccini e mia nonna mi portava al Teatro San Carlo a Napoli. E io da bambino vedevo queste cose straordinarie che si muovevano, sentivo questo odore dolce del teatro in legno. Chi è andato a teatro lo sa, improvvisamente arriva una ventata. Non codificavo benissimo la connessione tra musica, lo spartito, la parte teatrale, però vedevo un movimento coreografico abbinato a tantissime sensazioni. Quindi c'era la parte visiva che era molto stimolata, la parte uditiva e in più c'era anche una parte olfattiva importante. E quindi questa cosa mi portò veramente ad amare la lirica come esperienza, che poi ho coltivato attraverso indubbiamente un minimo di studio. Noi abbiamo adesso un altro regalo per te, ma anche per tutto il nostro pubblico a casa, perché a Milano, al Museo Teatrale alla Scala, è in corso una mostra bellissima, dedicata proprio a lei, alla grande Maria Callas. Il titolo è Fantasmagoria Callas, la potrete vedere e visitare fino al prossimo 30 aprile. Noi ve la raccontiamo in questo frammento di documentario sulla mostra realizzato da Francesca Molten. Guardate. La sua voce è un dono della natura che appartiene a tutti noi. È come, che ne so, il suono del vento, il suono del ruscello, il suono che è un fonte infinita di ispirazione e sonora. Tutto lì. Davide, perché è stata importante Maria Callas? Per diversi aspetti. Innanzitutto perché lei si colloca a livello temporale, quindi 1942, 1945, 1946, quando incomincia a lavorare in teatri molto importanti, con un tipo di vocalità completamente diversa rispetto a quello che era della tradizione. In più perché successivamente negli anni 50, tra il 52 e il 54, fece un dimagrimento mostruoso, tale da rappresentare e un po' distruggere quell'icona massima del soprano abbondante e quindi in un certo senso portò stile, glamour all'interno anche del circuito lirico. Ed è stata anche importante perché le sue caratteristiche vocali, che non erano di per sé straordinarie, devo dire, rispetto ad altre, però erano modulate con una tecnica, una conoscenza, una sapienza, una dedizione allo studio straordinaria. Tant'è che lei riusciva, si chiama Camaleontismo, Callas, viene chiamato anche, o Camaleontismo, voglio dire, vocale, perché riusciva a passare dal soprano, lei era soprano drammatico, addirittura a mezzo soprano e contralto. Quindi, voglio dire, riusciva a in sé vocalmente, con successi più o meno, voglio dire, insomma, conclamati, apertamente straordinari, però riusciva a coprire diverse raci vocali. Assolutamente. Tre curiosità su Maria Callas. Allora, ce ne sono diverse, un po' dichiarate da lei, un po' dalla sua servitù, un po' dalle lettere, soprattutto ultimamente c'è stato un libro di lettere inedite. Beh, lei era completamente miope, non vedeva assolutamente nulla da qua là, non esistevano le lenti a contatto allora. Una volta cade dalla buca d'orchestra, praticamente, poverella, e un'altra volta alla scala, nel 1955, tra i fiori, i suoi dedrettori le gettarono carciofi e ravanelli, lei non vide la differenza tra fiori, se non dal peso, quindi prese questi fiori, pensava fossero fiori, prese questi ravanelli, li annusò, fece un inchino e ringraziò. Questo risultò anche un colpo di maestro, un colpo di teatro mostruoso, in realtà nasceva probabilmente anche dal fatto che non aveva le capacità di riconoscere da un punto di vista così visivo. Lei era ossessionata dal peso, perché da bambina aveva una madre che diciamo che non la amava, ma amava forse più la sorella, che rappresentava uno strato di bellezza un po' più canonico, magra, delicata, lei un po' meno. Si esercitava di nascosto perché tutte le ragazzine borghesi facevano musica, lei di nascosto ascoltava la sorella, a lui e a lei all'inizio era negato il maestro di musica, e i canarini, aveva un canarino, sentiva come gorgheggiava in maniera naturale il tipo di vibrato e cercava di riprodurlo. Quando la madre scoprì questo grandissimo talento, poi in realtà lei cominciò a studiare, ma le privò quello che lei scrisse in numerose lettere, tutta la sua adolescenza, la sua fanciullezza. La madre era una donna che sfruttò quelle che erano le potenzialità, anche perché parliamo in un periodo in cui si dovevano fare denari, loro vivono in Grecia in piena occupazione. Lei si esibì per il nazismo, per i nazisti e anche, in alcune lettere accusa la madre di averla in un certo senso incitata alla prostituzione. Quindi insomma, voglio dire, una vita abbastanza travagliata. Per quanto riguarda poi qualcosa di più divertente, un altro aspetto, lei dimagri appunto di 36 chili, improvvisamente portava dentro la borsetta una foto di Audrey Hepburn in Vacanze Romane, era il suo mito in un certo senso, e una casa farmaceutica romana, praticamente Villantoa, che erano grazie a queste pasticche che aveva preso di loro a produzione, che aveva perso questi chili. Lei chiaramente fece causa, la vinse. Alcuni, un'Atenia Solium, questo verme solitario che le mangiava, l'ha cognata addirittura delle iniezioni terribili per quanto riguarda il sistema diuretico, per farla nel giro di due anni perse tantissimo, tranne sulle caviglie. Tant'è che lei non accettò mai ruoli fondamentalmente tipo Carmen, dove la gonna poteva essere sollevata perché aveva un grandissimo complesso. Quando nel 1969 fu intervistata per il debutto con Pierpaolo Pasolini nella Medea, il giornalista fa veramente, è molto divertente questa cosa, guardate su YouTube, su tutti i canali, fa un'intervista tradizionale, nell'ultima chiede una curiosità, le dice no, le curiosità te le tieni, io non le racconterò. Lui continua e lui gli chiederà ma lei quanto pesa? Allora ad oggi una domanda di questo tipo veramente porterebbe uno scandalo, insomma, anche di stile abbastanza. Lei è felicissima di questa domanda, quindi voglio dire, disse ah io peso, sono alto 1,74 m, peso 64 kg, felicissima. Quindi questo un po' anche indicare come viveva con grande angoscia anche la sua fisicità. Tra molte fragilità. Era una donna molto molto fragile, una donna profondamente sola, una donna che ha avuto un maschile intorno a sé abbastanza violento e anche un femminile. E nonostante tutto questo è stata ed è ancora la grande Maria Callas. Assolutamente sì. Parliamo adesso della tua professione di interior designer, di arredatore di interni. Tu innanzitutto ci hai portato delle fotografie di lavori che hai eseguito per la televisione, per programmi molto famosi come X Factor e Il Grande Fratello. Allora cominciamo a vederle e a commentare questi tuoi lavori. Allora guarda, io ho collaborato e collaboro ultimamente con una grandissima azienda nel materano che si chiama Calia, che produce soprattutto sedute ed imbottiti. Nello specifico in questi interventi, negli studi televisivi o all'interno delle trasmissioni, mi sono occupato di placement, quindi di portare certi tipi di prodotti all'interno di strutture televisive. Questo è un progetto interessante. Il divano si chiama Modula proprio perché è formato da diversi moduli. La cosa più divertente è il fatto che io ero completamente avulso, lo sono anche in realtà ancora, rispetto al mondo televisivo. Il mio lavoro, che è un lavoro intimo, nel senso che quando parlo con il privato c'è una ricerca del dettaglio, c'è una ricerca di costruzione di un nido, fondamentalmente per quanto riguarda la televisione, tu non parli direttamente con una persona che fruirà di quell'allestimento, ma in realtà deve piacere a tanti. Questa cosa un po' mi ha spaventato, ma poi mi sono reso conto che non è difficile piacere a tanti, basta ascoltare tanti. Tu hai dichiarato che nelle scelte che tu fai per arredare traspare la tua passione per l'archeologia, ma soprattutto verso l'essere umano. Che cosa intendi? Ma guarda, io penso che l'arredamento sia uno spazio dove ci si debba sentire bene. Esistono delle regole, ma in realtà poi fondamentalmente la regola migliore è quella della natura. Oggi abbiamo parlato questa sera di natura, no? Cioè la costruzione di un nido, la costruzione in natura di un posto, di un luogo dove si sta bene. Luana ha il suo arredo intimo, che è la sua isola. Gli altri ospiti avevano l'arte o comunque hanno l'albero. Andrea aveva gli alberi, i ceppi. Io costruisco nidi, intervisto le persone, molto spesso non ascolto quello che loro dicono, cerco di sentire le cose non dette, che è la cosa più interessante, voglio dire. Cerco di decodificare una sorta di Socrate, sai, di cercare di riuscire a dire guarda, vorrei aiutarti a dire le cose che non sei capace a dirmi e su quello costruiamo, perché molto spesso si è influenzati. Forse la tendenza di adesso è questa, ma in realtà il vero senso dell'arredo è quello di portare una proiezione di te all'interno di una dimora. Però ti devi conoscere bene. Ti devi conoscere bene, assolutamente sì. E devi aver risolto tanti conflitti anche. Devi avere sì, assolutamente sì. E ti devi volere bene poi. Bisogna amarsi, cosa che appunto Maria Callas fece molta fatica a fare. Tu tieni molto al lavoro che fai per Giffoni Film Festival. Anche qui fai degli allestimenti. Perché tieni molto a questo lavoro? Tengo molto perché lì è partito un progetto diverso. Abbiamo utilizzato, questo è un progetto molto interessante, che è stato la giugiola, è una poltrona intrecciata, ricorda le trecce delle donne materane, ma poi in realtà il progetto nasce dopo un master che è stato fatto alla Sapienza, e quindi è di studenti insieme all'azienda Calia. E poi perché abbiamo portato diverse sedute, che sono dei piccoli puff coloratissimi, che sono stati creati attraverso materiali di riciclo. Il nome tecnico è struozza, che in dialetto materano vuol dire lo scarto. La cosa interessante è che quando si vedono queste sedute, la maggior parte degli adulti pensano che siano campionari. I bambini sono gli unici che identificano quell'oggetto come un puff dove sedersi e giocare. Quindi l'idea primitiva di pensare l'oggetto come qualcosa che non serve perché è un oggetto, ma perché sul quale si possono fare le cose importanti. Io quando parlo di divani, per esempio, a me interessa poco fondamentalmente, lì è la parte estetica. Noi la perdiamo. Dopo un mese, anche quando facciamo una scelta di un certo tipo, perdiamo la considerazione, il percorso di quella scelta. Sul divano si sogna, sul divano si mangia, si pensa. Sono queste le cose importanti. Non è l'oggetto, ma le cose che quell'oggetto serve a fare. Le cose più importanti non sono il divano, ma sono le cose su cui si fa sul divano. O sull'arredo, ma sono le persone certe. Infatti qui a Stato dell'Arte noi ci occupiamo innanzitutto, lo dico sempre, di beni culturali viventi, che sono i più importanti. Adesso diamo i voti ad alcune mostre d'arte. da dove siamo a Stato dell'Arte. Parliamo ovviamente con te dell'allestimento. Partiamo con la mostra Dacia, l'ultima frontiera della Romanità in corso alle terme di Diocleziano fino al prossimo 21 aprile. Non perdetevi questa mostra, perché è davvero molto interessante. Allora, che voto daresti a questo allestimento? Allora, io do una votazione numerica. Ok, 8. Adesso vedremo le immagini di questa mostra, così ce la puoi commentare. Assolutamente. Da punto di vista di critico, ma soprattutto di interior designer. Guarda, a me piace molto perché è una mostra facilmente decodificabile. Dato che comunque le mostre vengono create anche per uno scopo divulgativo, in realtà fondamentalmente il colore arancione, il contesto, vabbè, è straordinario. Non è facile costruire una mostra attraverso un contesto così ampio, in termini di volumi, e soprattutto così importante in termini di storicità. La cosa che mi ha affascinato è che all'interno della mostra poi vengono creati una storicità della Dacia, cioè questo territorio colonizzato romano, più o meno l'attuale Romania, ma nel quale ci sono oggetti che ricordano non solo la parte sacrale, non solo la parte artigiana, ma anche fondamentalmente che è la parte magica. Ci sono delle statuette con riti magici, voodoo, interessantissimi, fa intera cotta, e questa cosa mi ha colpito tantissimo, e soprattutto perché mi piace l'idea che il Museo Nazionale Romano non perde mai d'identità, cioè riesce sempre con grandissima coerenza a fare mostre scientifiche, ma allo stesso tempo fruibili. Non ha mai l'arroganza, in un certo senso, di autocompiacersi. Adesso ci spostiamo a vedere Fidia, abbiamo delle immagini video, è una mostra, anche questa da non perdere, in corso fino al prossimo 5 maggio ai musei Capitolini Villa Caffarelli, ovviamente di Roma. Che voto diamo a questo progetto espositivo? Allora, a questo progetto espositivo diamo un voto 7. Perché? Ma perché? Perché l'idea di fare una mostra su Fidia è un po' pretenziosa. Fidia è da dieci e lode, lo diciamo subito. No, no, ma assolutamente, ma anche l'intenzione è di dieci e lode, assolutamente. È chiaro che, voglio dire, una mostra con un titolo così altisonante meriterebbe probabilmente dei reperti, o comunque fondamentalmente, in realtà è rimasto veramente poco di Fidia originale, però meriterebbe fondamentalmente un tipo di struttura che io considero un po' diversa. Mi sembra una mostra interessante, però piena di copie, piena di strutture, un po' anche forzatamente legate al mondo di Fidia. Le luci sono straordinarie, diciamo che la mostra un po' ripete, per colori, per colori di sfondo, cose già viste, ecco. Soprattutto ai musei Capitolini, diciamo che un po' sembrano un po' ripetersi, anche in termini di struttura, in termini di dascalici, però mostra straordinaria, voglio dire, è assolutamente da visitare, ecco. Adesso parliamo invece di una mostra che, ahimè, si è conclusa. Una grande mostra, aggiungo io, Rubens e la scultura a Roma, nella splendida Galleria Borghese, che ovviamente vale sempre bene una visita. Qui, in questo caso, che voto diamo? Dieci e lode. Allora, vabbè, al di là che c'è un comitato scientifico, come in tutti i musei romani, devo dire, di altissimo livello. È una grande direttrice, Francesca Cappelletti. È una grandissima direttrice e le curatrici di questa mostra sono straordinarie. Io ho avuto il piacere di poter essere stato accreditato dall'ufficio stampa e quindi di poter aver visto in anteprima a chiusura, a un lunedì, quindi Galleria Borghese era chiusa, c'eravamo solo noi. Mi è piaciuta moltissimo l'interazione tra la collezione permanente, la mostra e soprattutto anche il percorso espositivo, che era facilmente, forse, ecco, devo dire la verità, che era difficile costruire delle luci ad hoc sulle singole opere di Rubens, ma l'illuminazione era quella generica fondamentalmente della galleria. Alle volte si perdevano dei dettagli, alle volte c'era un pochino di difficoltà di angolazione per quanto riguarda la visione di alcuni quadri, perché avevano un riverbero, insomma, però voglio dire, mostra straordinaria, bellissima, un catalogo, peraltro, che finalmente è facile da leggere e che si riesce fondamentalmente a decifrare anche per i non agli addetti ai lavori e che quando vedo la mostra e leggo il catalogo, più o meno riesco a intersicare entrambe le mie esperienze. Alle volte non è così, si legge un catalogo e si pensa di aver visto una mostra completamente differente. È molto comune. È molto comune, sì. Luana, Andrea, l'ultima mostra che avete visto, d'arte ovviamente. Partiamo da te Luana. Faccio fatica a dirlo, ma perché io, oltre appunto al mio lavoro di ricerca personale, fotografo gli allestimenti ad alcune mostre, quindi adesso faccio confusione tra quello che ho fotografato e quello che ho visto di persona. Mostre di fotografia, per esempio, le vai a vedere? Sì, sì, vado e... Mi hai colto in presenza. Può accadere qui a Stato dell'Arte. Andrea, vieni in soccorso di Luana. La mostra che ho visto era una performance, in realtà con dei pezzi a disposizione per essere visti, in Galleria Varsi, che è una galleria romana leggermente in periferia. Che si occupa di arte urbana, di quella che un tempo si definiva street art. Non solo, non solo. Quindi questa per esempio era una performance di Albero Nero, credo che... Beh, rientra sempre in quella categoria. È un artista che io ho seguito, che ho curato e che ho anche presentato. Adesso cominciamo un gioco, ma in realtà non è soltanto un gioco, perché abbiamo qui un interior designer di grande qualità come Davide, che ci darà dei consigli per non sbagliare l'arredamento delle nostre case. Allora, cominciamo con i nostri cartelli grafici, regia. Partiamo dal primo consiglio. Eh sì, non avere fretta di arredare tutto subito, perché è una sorta di ansia da prestazione. Io compro la cucina... Dopo che si è comprati la casa, per esempio. Dopo i lavori di ristrutturazione, subito si dice che devo arredarla tutta insieme. Assolutamente, ma perché? Perché molto spesso i lavori, ultimamente purtroppo per la crisi del settore, in termini anche di materie prime, i lavori di ristrutturazione durano anni, quindi si cerca fondamentalmente di riuscire... Non parliamo degli infissi. Esatto, e anche dei rubinetti, direi. Voglio dire, ho clienti che ancora aspettano di farsi una doccia. Quindi cosa succede? Succede che il giorno in cui vogliono comprare il Libri, vogliono comprare esattamente tutto, non coordinandosi, non pensando che anche le scelte devono essere, voglio dire, anche calibrate. Meditate? Meditate, sì. Anche nel tempo? Anche nel tempo, un po', perché comunque quando io scelgo un pezzo d'arredo è una parte di me che vado a scegliere ed è anche una parte di me che forse velocemente desidero anche non avere più, perché fortunatamente siamo in evoluzione. Passiamo al secondo consiglio, non attaccare tutti i mobili alle pareti, mi raccomando. Esatto, perché si crea fondamentalmente una situazione di agorà, cioè una piazza centrale dove poi fondamentalmente con imbarazzo non riusciamo a più, non so, a sostenerne lo sguardo. È una piazza centrale mostruosa in cui tutte le persone, magari amici, invitati, stanno sui fianchi e tu vedi questa cosa e dici, vabbè, esistono tante soluzioni, però è anche, voglio dire, insomma, sa anche di grande magazzino. Attenzione poi a non seguire le mode, segui il tuo gusto personale. Esatto, ne parlavamo prima, sembra un po' un'antitesi, no? Perché, voglio dire, io cerco sempre persone che si affidano a me. Poi in realtà, come ti dicevo prima, io cerco persone attraverso le quali posso aiutare a trovare quella che è la soluzione ideale per loro. Quindi non ascoltiamo il vicino di casa, la cognata o la suocera, cerchiamo di essere un po' personali quando facciamo le nostre scelte d'arredo. E poi non utilizzare solo colori neutri, bisogna avere coraggio di osare con il colore, mi raccomando. Sì, perché c'è questa idea che il chiarore, diciamo così, allarga le stanze, una cantina bianca è sempre una cantina. E poi bisogna evitare l'effetto arlecchino, cioè di avere troppi stili in casa. Esatto, non eccedere, voglio dire, anche in questo, anche se in realtà al di là di queste regole, se tu stai bene nel tuo ambiente, va benissimo, magari io non verrò a trovarti, però... Un grande maestro di giornalismo culturale, esperto in musica e nuove tecnologie. Ernesto doveva essere ospite del nostro programma, ahimè, non potrà esserlo. Noi vogliamo ricordarle, ricordare soprattutto uno dei suoi tratti professionali, la grande gentilezza, oltre che la grande competenza e la grande professionalità. E proprio a te, Ernesto, dedichiamo il nostro pensiero della buonanotte, tutto proprio sulla gentilezza. La gentilezza è la lingua che il sordo ascolta e che il cieco vede. Firmato Mark Twain. Alla prossima. Alla prossima. Grazie a tutti.